Se sai far bene alla spesa, il ristorante più buono del mondo è casa tua. La cucina di un bistro, tre giurati dai palati molto esigenti, due cuochi appassionati per una sfida infuocata, quattro prove, manualità, abilità, creatività, presentazione e a condire il tutto la nuova promessa della cucina italiana, Simone Ruggiati. Tutto questo è Cuochi e Fiamme. Benvenuti a Cuochi e Fiamme, guardate quanto pubblico affamato nel nostro bistro e affamata, spero che sia anche la mia giuria, Fiammetta Padda, giornalista e no gastronomica. Riccardo Rossi, attore, oggi te lo vedo un po' serio anche, pensiero che ti senti gastronomo. Oggi è venuta Marina Retta Chiara Maci. Marina Retta. Foodblogger. Due concorrenti, hanno fatto poca strada, entrambi da Roma. Massimo. Ciao Massimo. E Alessia. Alessia Labasso. Allora Simone, ti interrompo subito perché adesso tu che fai sempre un po' lo sbrasone con la Toscana, terra mia, terra mia, terra mia. Oggi abbiamo due romani alle table, quindi ovviamente si crea, vedi, un triangolo così e uno così. Cioè voi tre che non c'entrate in niente con noi tre. Quindi ecco la puntata. Io spero che le prove richieste riguardino il territorio, caro Gimondo. Vabbè, piano piano lo conoscerete meglio. Prima dobbiamo conoscere voi come cucinate e prima di darvi dei punti con delle sfide un po' più importanti, c'è una sfida un po' per rompere il ghiaccio. È di manualità. Quello super giù è il risultato, un bel saltino che gira la frittata in padella. Potrebbe essere semplice, potrebbe davanti al nostro pubblico diventare un po' più difficile. Fatecelo vedere, tre minuti di tempo per girare una frittata in cottura. Via! Ah, la prova è di salto. Quindi noi dobbiamo guardare. Allora, la prova è girare la frittata e si può fare in tanti modi, però il modo migliore, senza toccarla, senza ricirarla su coperchi, cose strane, è un bel salto, netto, come fai tu. Io ti devo dire che ho comprato i coperchi di tutte le padelle che ho proprio per ovviare a questo problema, così. Ogni volta che la gira o squilla il telefono e quindi ti cola tutto l'uovo da una parte, capito? Oppure lo fai bene così, dico che bello, te lo dimentichi che ti bruci col fuoco sotto qua. Comunque, insomma. Ma non è più elegante se fai il salto. È molto elegante, ma pensa, Fiammetta lo sa fare solo con frittatine piccole, così, se non pesa troppo la padella. No, io ho fatto solo crepe, come tu sai. Solo crepe, ma c'è... Allora, vi farò vedere... La frittata, scusa. O forse omelette. Bene, qua, vi posto anche questo, così li seguite bene bene, passo passo, e vedete chi, diciamo, ha più... Oggi vi porto le padelle direttamente. Ah, va bene, ok. Così non lo toccano, non la sistemano, tutti in padella. Ok. Alessia è concentratissima, serissima. È la prova un po' ardua, eh. Senti, ci dai invece una dritta per fare la frittata più veloce, quella famosa del suicidio? Cioè quella stasera, ma ammazzo, ma prima non mi faccio una frittata da solo. Qual è quella? Se è romano, parlavi di romani. Faccia la cacio e pepe. Cacio e... Certo, certo. Io so benissimo di cosa farla, ma mi fa piacere farglielo dire a di su modo. Pecorino. Sì. Grattisato. Bello abbondante di pepe, pochissimo sale, uova. Se vuoi un goccetto di latte. No, ma parliamo della tecna, quindi padella rovente, un goccio d'olio. Sì, ci vuole. Frittata. Prima fiamma alta, poi la abbassi. Ecco, una padella che abbia un bel po' di fondo, così... Quindi un 5 mm, anche un 3 basta. Si intende? Non bruciare gli orli. Esatto. Ecco, non bruciare gli orli. Basta non far fare il fumo dalle parti. Va bene. Torno qua, perché ora... Allora, lei se l'ha già messa e la guarda con aria è stranita. Su questa prova, che in teoria serve a rompere un po' il ghiaccio anche, io devo stare abbastanza muto, non posso aiutarvi più di tanto. È il massimo le frittadine, ne ha fatte, parecchie. Ma è il massimo, c'è quasi. Oh! Però... Aspetta. Vai. Tipo stadio. Voglio il pubblico che mi fa la ola. Dai, dai. Pubblico. Oh! Oh! Bravo! Bravo! Lasciala così. Mola lì. Molto calè. Oh! Oh! Perfetto. Bravo! Bravo! Bravo, bravo! Spegnete i fuochi. Avanti. Allora. Però o lo fanno loro, perché qua c'è il giudizio, Massimo e Alessia. Sono carine tutte e due. Sì, però dobbiamo... Qui c'è la marmellata dentro. Allora, valutiamo anche una cosa, io ho parlato di salti e non salti, però valutiamo anche la fattura. Sì, certo. Sì, certo. Mi dispiace. Adesso vince la prima prova, ma la lista è la giudica, doppiamente uguale. Allora, adesso io non vorrei essere nei tuoi panni su questa scelta. Pasta la puttanesca o amatriciana? Per favore, non sbagliare! Non lo so. Non lo so. Eh, vabbè. Amatriciana. Non so se è un contesto. È l'amatriciana. L'ingrediente base alla prova di abilità. Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. Simone, sei pronto? Sì, prima gli devo dire una cosa al loro due. Prego. Voi dovete fare la vostra versione. Per fare questo avete 30 secondi di tempo per entrare in dispensa e prendere tutto quello che vi serve. Concentrati. Via! Forza. Il dottor Riccardo Rossi si metta qua. Grazie. Le dosi. Le dosi per quattro. Per l'amatriciana classica. Dossi per quattro. Dunque, stiamo parlando di un chilogrammo di mezze maniche. Quindi due e mezzo per uno. Giusto? Così non avanza e stiamo tranquilli. Poi, pelati quanti secondo te? Eh, tu ma la ricetta. Così, vabbè. Due barattoloni belli di pelati, quelli degli amici. Quindi, fatti bene al mestiere, non si comprano. Oppure, se quelli che si comprano da Italy, molto buoni. Poi, guanciale amatriciano. Stop al tempo per loro. Guanciale amatriciano. Sale pochissimo. Pepe da grani, si dice così. Acqua rovente. E pecorino romano. Loro hanno fatto la spesa. Andiamo a vedere. E pecorino romano d'offo. Alessia mi esce con un bucatino. La cipolla. La sua verna. Mamma mia, vabbè. Melanzana, mi sento male. Simone, aiutami. 10 minuti di tempo, l'acqua già bolle. Pronti? Via. Dai. Allora, perché avevo paura? Perché parliamo di matriciana da ormai... Una rida. ...gli albori, qualche fiamme. Bene. E non l'abbiamo quasi mai fatta. Oggi ti tocca. E potrebbe essere un'arma a doppio taglio. Qua la personalizziamo con... Con? Guarda, non respira. Della cipolla rossa? Eh, ma... Io... Anch'io sono ortodossa, quindi... C'è il trucchetto, in realtà. Ah. A me piace il sapore della cipolla, quindi la metterò accanto fritta. Sì. Però non nel sugo. Ah, brava. Già una cosa, se uno può scalzarla. Quindi, per friggere, si vuole l'olio. Sì. E l'olio deve essere ben caldo. Sì. Ho capito. Ecco. Lo mettiamo, fate lì. A buon intendito. Invece di qua? Di qua. E qua non abbiamo paura di te, per sicuramente. Certo. Anche qualcuno che fa il bangisamping. Ho fatto una volta. Si lancia in una matriciana con patate bollite, San Marzano, freschi, melanzana. Allora, io sto scherzando, perché io voglio le varianti della matriciana. Certo. Anche perché dopo Riccardo c'era la ricetta originale, che alla fine è anche semplice. Sì. Fatta buona. E noi diamo a casa delle varianti. È giusto. E io sono curioso. Come la fai? Guarda, è la classica matriciana, con l'aggiunta di pane in ariano, sopra. Come lo fai? Friggere, torse, calda. Ok. Fritto. Con l'aggiunta di melanzana. Tu lavora mentre parli, però, perché i dieci minuti passano velocemente. Ah, e ti interrompo di nuovo. La pasta in quanto tempo cuoce? Ma questo è un ognocco, Michalato. Ah, tu devi fare lo gnocco. No, fai lo gnocco. No, fai lo gnocco. Marcavo bene. No, fai lo gnocco. Allora, dovresti premere il pulsante. Te lascio lo spazio che ti tolgo. Manco suona, già te l'ha detto. Fa lo gnocco. Ok. Allora, dimmi come lo vuoi? Patate, farina, uovo? Farina, no, senza uovo. Anche perché non l'ha preso, quindi... Ok. Ci mettiamo un po' di formaggio dentro? Sì. Però, se tu li lo chef e io faccio il comì oggi, eh. Allora, intanto prendo una bacinella. Tu, allora, io faccio lo gnocco, però voglio capire bene la ricetta per loro. Qua suda il guanciale. Il guanciale. Ok, con un filo d'olio, senza niente. Esatto. Qua friggi la melanzana. Che verranno fritte. E andrà dentro il pomodoro sia fresco che... All'ultimo, guarda. L'abbiamo aggiunto. Ok. Dove che l'abbiamo aggiunta la mollica croccante sopra con il pecorino. Ce la fai? Ce la provo. No, perché io ti faccio anche lo gnocco, però ce l'hai di preparazione. Stai facendo la pasta? No, sto facendo un guscio con la pasta di semola, perché siccome sono anche di origini sarde, faccio un'empanata di amatriciana. Ma il bucatino lì? L'ho messo, l'ho messo. Ah, scusa. Vabbè. Scusa, senti Simone, invece voglio dirti una cosa, adesso direi che Fiammetta ci dirà senz'altro, mamma mia, questi due. Tu devi sapere che nelle mie, diciamo, chiamiamole così, cene di seduzione, lo dico anche a te, Fiammetta, io non faccio mai il risottino un po', hai capito, un po' l'offio. Io vado sempre molto violento subito con la amatriciana, perché io faccio questo testo. Così capiscono com'è il dolore. Bravissima, nel senso che se tu accetti la amatriciana violenta, è chiaro che hai capito il gioco. Se invece vedi che, ah però io qui, io appero là, tu mangi la amatriciana e dici, ah, sono stanco di salute, la mangio io. Hai capito? Non è sbagliato secondo me, no? No. Giusto? Può essere, può essere. Cioè non si può stare sempre col tonno e cappero, giusto? Tonno e cappero. Un'alternativa, capito? No, devi vedere la faccia di Chiara, mentre stai parlando con Piammetta, che mi guardava e mi chiedeva aiuto. Esatto. Scusa, ma violenta quanto questa amatriciana? Cioè, voglio dire, la mangia così, con le mani. Sapore forti, no, vabbè, no, no. Adesso sappiamo la tua di cena. Sì. Romantica, seduttiva. Adesso voglio sapere quella di Fiammetta. Quella di Fiammetta. No, no, io ho sempre detto che la cena romantica non si prepara niente. Si fa pollo freddo che si trova già pronto, perfetto, eventualmente in gelatina. Ecco. Devi solo tagliarlo e avere lo champagne freddo. Finito. Ed è sempre il pollo freddo. E la tua cenetta romantica, che cos'è? La matriciana. Non è... No, no, no. Chiara Maci. Chiara Maci sembra veramente esposta. Parla. Parla. No, anch'io però sono per i gusti forti, come Riccardo. Cioè, io non faccio la cenetta romantica. Che fa la lasagna? No, la lasagna no, neanche il tortellino. No, non Emiliano. No, sono più per il subito. Allora, adesso lo dichiaro a tutti. Sì. La coppia adesso è ufficializzata. Sì. La matriciana ha battezzato. Fate un applauso alla nostra... A pochie fiamme si imparano le ricette. E invece la tua, qual è la cenetta seduttiva tua? Quello che ho in casa. Un attimo, perché l'ognocchio è pronto. Guarda, Carlo. Dible se lo vuoi più sodo, se vuoi più farina. Te lo devo tagliare pure. Anche. Certo. Vabbè. Non so perché, ma non riesco a dirgli di no. Eh, certo. Allora, dicci un po' quali sono i tuoi hobbies. Hobbies. Palestra. Ah, palestra. Palestra. Si vede bene. Si vede. Poi. Diciamo. Mi piacerebbe giocare ai giochi estremi. Ti è detto così. Tipo, sparacadute, versioni. Ma ti piacerebbe che l'hai fatto? No, ho fatto una volta il lancio al jumping. Era bassino, non era tanto alto. Schizioso. Poi dal saltare da piani alti, ha la passione per l'orto. Si, infatti è un pezzettino d'orto. Ok. E questa qui è stata un'invenzione con l'orto provi. Ah, ok. Quindi è una cosa che tu fai. Sì. Normalmente. Vale, ora arrivo, eh. Ale, arrivo. Sì. Quanto li vuoi grandi? Più piccoli. Sì, ora li taglio, ma dimmi. Fammi vedere uno e io ce li faccio. Così. Va bene, sì. Facciamo ancora più fini. Brava, brava. Guarda che bello, lei che con le mani, questo pelato. Facendo un papà occhio. Eh, vabbè. Allora, io te l'ho fatto un filoncino, gli altri poi te li tagli da solo. Allora, l'abbiamo capito. Io non faccio l'aspetta. È bello che i miei concorrenti... Che? Mi fai una cialdina di pecorino? Allora, l'ha fatto molto. Una cialdina di pecorino? Sì. Quanto emoziona la matriciana. Riccardo, visto che mancano tre minuti soltanto, ti chiederei un favore oggi. Dimmi. Potresti andare là in mezzo ai salami? Sì. Che ti ci trovi anche a tuo agio tra pane e salame? Sì. Ok? Sì. Guardi bene in faccia i nostri amici di Cuochi e Fiamme e gli dai in italiano... In italiano? ...la tua matriciana, senza arrabbiarti, possibilmente. Ok, va bene. Allora, amici, prima cosa si stacca il telefono. Non rispondete al citofono, non fate niente, il fax, internet, tutto chiuso. Dopodiché prendete una bella pentola inerta, bella alta, ci mettete questo guanciale tagliato con dei coltelli molto buoni, fini fini, dentro con la padella rovente. Riccardo, l'olio? No. L'olio no. Ma chiudete il tappo del coperchio sopra e piano piano questo guanciale rilascerà quel succo meraviglioso sul quale metterete violentemente poi pelati sopra un pizzico di sale e una bella macinata di pepe. Nel frattempo fate andare questo chilo di mezze maniche nell'acqua rovente. A me la pena il sugo fa gli occhietti e la pasta è quasi pronta, quasi in cottura. La scolate molto prima che diventa al dente, la buttate dentro questa padella, mi emoziono pure io, e cominciate a ravanare dentro, come direbbe Ruggiati, a risottarla. Poi prendete una manciata enorme di pecorino, sopra, girate tutto quanto, altro pepe, la portate con la padella a tavola così a fiammetta, fatta chiaramente, due bicchieri di vino bianco frescati, girato sempre, buonissima, la seratrice. La storia che mi ha contato da piccolo, l'ho sentita mille volte. Bravo, grazie. Un minuto e poco più. Perché non me l'hai chiesta prima la cialdina Ale? Perché stavi vedendo lui con gli gnocchi. Ma noi romani siamo generosi tra di noi. Ma io ti venivo a mettere la cialdina e tornavo a tagliarli gli gnocchi. Tu vuoi metterci la pasta dentro? Eh no, no. Quindi l'ho fatto a sottile, l'ho fatto bene, molto bene. Allora, torniamo un attimo sulla ricetta, che se no divaghiamo. Di là, vi l'ho spiegata, abbiamo l'aggiunta di melanzana fritta e di pomodoro, sia fresco che in scatola. Qua abbiamo fatto guanciale. Semplice guanciale, pomodoro pelato, premuto con le mani come vi ha fatto. Peperoncino. Peperoncino. La cipolla l'abbiamo passata nella farina di grano duro e fritta. Quindi l'olio lo possiamo spegnere. E stai troppo quasi qua al fuoco. Esatto. Quindi qua è quella bella croccante. Poi hai fatto in forno? In forno ho fatto un guscio, diciamo, di pasta di semola. Che fra pochino tirerei fuori anche. Esatto. Volevo controllare la pasta, ma la vedo ancora in alto o male. Allora, qua abbassiamo. Questa te la tiro fuori io, perché fra pochi secondi addirittura dovete impostarmi. Visto che l'aiuto te l'ho dato veloce, ti aiuto anche a tirarla fuori così se brucia. Ok. Aiuto io. Poco tempo ragazzi, eh? Cominciamo a mantecare perché... Perfetto. Allora, scolerei la pasta. Lo scolere la pasta. Allora, ufficialmente il tempo è finito adesso. Però noi... Vi faccio impiattare perché se no Riccardo Rossi comincia nella sua... Diciamo che avete... Però siccome parliamo di un piatto sacro... Guarda che meraviglia, guarda. Certo che sfoglia. Mamma mia ragazzi. Che piatto straordinario. Ok. Di qua ci siamo. Massimo mette l'ultima fogliolina e è pronta. Mi fa gola. Lo metto qua, eh? C'hai messo... Ah, il pane croccante. L'hai fritto solo in olio? Sì. Solo in olio. Quindi la morbidezza dello gnocco con il contrasto del croccante del pane. Qua c'è il pane che fa da contenitore la croccantezza della cialdina e della cipolla su una matricianina leggermente piccante. Dai. Proviamo queste variazioni. Variazioni sul tema. Variazioni, accetto. Chiariamo che sono variazioni. Massimo. Gnocco. Vi servo. Grazie. Non scotta. Quindi, melanzana rosolata a parte. Quindi ha diviso anche le cotture. Con i pelati del San Marzano Fresco ha fatto la salsa con il guanciale. in maniera classica. E poi lo gnocchetto di patate, semplice, con il pane fritto alla fine. Allora, ottima l'idea dello gnocchetto senza uovo, tra l'altro. Perché rimane molto morbido, quindi non galloso e sta benissimo col pane croccante. Quindi perfetto, secondo me. Manca giusto un po' di sapore. Bene. Via il piatto. E il principale arriva Riccardo. Tocca a me. Nessuno dei due ha sentito il consiglio di Riccardo Rossi, che è quello della sventagliata. Pepe. Eh, e di permi di pecorino. E pecorino. Ci sono rimasti più sugussi delicati. Ma, effettivamente manca proprio la pecora qua. Però devo dire che l'ansamblo è molto buono. Si chiama così. Si, si. Vai. Allora, è evidentemente un nord-sud, no? Perché lo gnocco è molto nord, diciamo Piemonte. Se voglio fare una volta lo gnocco alla matriciana. Lo chiamerei... Mi chiami e te lo faccio io o gnocco? A matriciana alla garibaldina. Ma certo. Piemonte, sud, pomodoro. È molto carina, però io non sento questa violenza che piace tanto a lui. Lui, che è quella seduttiva, manca un po' di pecora. Di pecora. E il croccante è un'idea, ma avrei messo ancora più croccante. Però carino. Da uno che fa pugilato, sentirsi dire non fa... Che è un piatto delicato. Non è violenta. No, no, no. Ma è sempre così, eh? Ok. Allora. Qua Alessia, che è violenta, non mi sembra per niente, ha aggiunto un pizzico di peperoncino. E questa cipollina croccante. Quindi potete mischiarle assieme. La cialda. Ora è un piatto da assemblare, perché hanno presi tutti gli ingredienti separati. Cialdina di pecorino, cipolla fritta, che danno quindi croccante salino e croccante dolce. Allora. Patriciana, semplice col peperoncino. Qui rispetto al precedente invece si sente molto il pecorino. Questa cosa mi piace molto. Ottima secondo me l'idea della cialda, che dà l'elemento croccante. È solo un po' scondita la pasta, ma evidentemente dovrei tenere un altro po' in padella. E secondo me troppi elementi. Io la cipolla l'avrei eliminata. Per il resto tutto perfetto. Il contenitore non l'ho mangiato, però bella presentazione. Sì, diciamo che quando ho visto che impastava, in dieci minuti far la pasta non è... Allora, prendo questo. È un macello, eh? Così è più violento quando lo procavi. Guarda. Il bucatelo è stato inventato per sporcarti la camicia. Quindi l'ha inventato un cretino. Però è buono. Era buono. È buono. Guarda, assaggio la cipolla proprio perché lei è romana, eh? Come si fa? È molto difficile tutto. Cioè, è una cosa che incantiamo coltello. Non ho inventato un altro cretino. No, coltello l'hanno inventato mio parente. Te non lo sai, c'è la forchetta. No, non c'entra niente. Questo lavoro per niente. Fiammetta. Capito, questo ha fatto un movimento... Ti aiuto io, guarda. Grande complication. Cioè, in fondo, è una cosa... No, fiammetta io la... Eh certo, tu dici, non voglio sentire niente, nessuno. Molto nobile sul mettere la pasta dentro, un contenitore di pasta. Però questa è veramente durissima da mangiare, anche se tu mi hai aiutato. E io... All'americana. All'americana. Chiudiamo un occhio. All'americana, scusate. Ecco. Eh sì. Ecco, così. Dunque, intanto questo com'è? Mmm, salatissimo. Senti. Anche qui. Effetto un po' violento e troppo... Voleva fare troppe cose. Diciamo così. Altri tre minuti in padella, con un po' d'acqua di cottura, un po' di formaggio dentro. Sarebbe stato comodo. Però non c'è la voglia. Da 1 a 5. Questo è il piatto di Massimo. Gnocchetto alla matriciana... Del mio orto. Del mio orto. Bravo. Comunque è una gran bella passione averci l'olto a casa. Sì. Sì, sai quello che mangi. È vero. Piatto di Alessia, bucatino piccante in cocotte di pasta. Come l'hai chiamata prima? Un panada. Un panada. Vince Massimo, 11 a 7. Guardalo. Non ti devo far tagliare. Esatto, sono pochi punti. Adesso ti rilassi e ci pensi. Prima pubblicità. Ben tornati in studio a Cuocchi Fiamme dopo una disquisizione sul piatto religioso di Riccardo Rossi, ovvero la matriciana. Massimo ha vinto 11 a 7, la prima sfida con Alessia. Quindi sceglie tra, visto che ti intendi di verdure e c'è il tuo orto, ti dico zucchine o piselli? Zucchini. Mi piacciono? Le zucchine sono l'ingrediente base per la prova di creatività. Non vengono dal tuo orto le zucchine, ma dal nostro. Avete lì sul tagliere e tutto quello che serve per renderle creative, ce l'avete in dispensa. Ancora 30 secondi per ricettarle in maniera un po' nuova. Pronti? Via! Allora, Massimo mi esce con del pesce, totanetti, pomodorino ciliesa, basilico, cos'è quello? Pesce sciabola. Pesce sciabola, aglio e pinoli, molto sud Italia. Qua! Cos'è il pesce? Spada? Sì. Spada, balsamico, datterini, mentuccia. Polvere di liquirizia. Polvere di liquirizia. Tranquillo, couscous, qui che c'è? Acqua. Stop! A parte quella, tranquillo, l'hai già mangiata una volta. Comunque, 10 minuti di tempo. Creatività, ve lo ripeto. Via! Avevo rimosso. Allora, l'altra volta che l'hai mangiata, non mi ricordo tempo fa, ti era anche piaciuta. Ti ricordi la liquirizia? Sì, quella che non si sa dove cresce. Avevamo parlato, ascolta bene, che tutto sta nell'equilibrio di quanto se ne utilizza. Ok. Allora, conosciamo meglio Alessia. Allora. Alessia ha tanti hobby, tipo cantare, tipo fare l'uncinetto, disegnare i vestiti, tante cose. È una brava bambina, però per prendere la specializzazione in... Chirurgia plastica. Dì a Riccardo cosa fai. Cuccio maiali. Ma veramente? Sì, perché... Cuccio e maiali. Sembra strano, ma il maiale e l'animale è più simile. No, lo so, non è strano. Lo sapevamo. E quindi incido. Ma sono addormentati i maiali o sono? No, sono già cadaveri. Sono già cadaveri. Diciamo che... Cuccio e le pancette. Tu, te lo lasci tutti i ritagli in giro. Eh, lei te le riasserva. Quindi lavori in un'agenzia di una cosa alimentare? Cioè, mi cucci i salami che con l'affetto. Si allena. Si allena. E poi ha un'altra grande passione. Dagli, è un'altra? Sono anche un po' invidioso. Tipo? Digglielo. Sottare? No. Cosa? Si chiama Raul Bova. Ah, vabbè. Vuol cucinare per lui. Ah, pensavo fosse invidioso perché anche tu vuoi fare l'ammiratore di Raul Bova. No. No. Con i tempi che corrono, guarda che non c'è nessuno. E se hai giocato a su una cucina. Io rispetto, mi piace come attore, però... Eh, va bene. Allora, dicevamo. Dicevamo. Ecco. Invece qui. Massimo. Sì. Che fai? Partiamo dalle ricette. Allora. Non chiedo più obbio, vorrei che tu venissi poi neanche qualcosa di strano. Comorino. Anche lui è un... Così manti Raul Bova, no? Per chi cucineresti tu? Io. Dovessi invitare una a cena. Bella e nemmeno. Bene, abbiamo pareggiato i conti. Va bene. Tu voressi invitare uno invece a cena? Carlo Verdone. Bravo, così mi piace. Giusto. Una bella cena con Carlo Verdone. Matriciana, gnocco fatta la matriciana. Io sembro uscito un po' da un film di Verdone. Allora. Due pensioni con una fava. Cucina Verdone e diventa la star del suo prossimo film. Allora, ricetta. Totanino? Ripieno? Sì. Ok. Ripieno di sciabola. Il sughetto di pomodoro e zucchine. Zucchine, sì. Dai degli profumi, vedo dell'aglio là. E basilico. E basilico per fare il pesto. Ok. E il l'aglio? L'aglio lo metti nel pesto. Lo metti nel pesto? Allora, ok, scusi. Matto, dov'è? L'aglio lo metti nel pesto. Allora, a parte che, dopo quello che mi hai detto, non ti aiuterò più. Ma dici la ricetta. Allora, io faccio un couscous aromatizzato alla menta con zucchine fritte e sopra pesce spada grigliato con del sale più sopra. Allora, griglia uguale, deve essere ben calda. Sì, la metto subito perché ho paura che l'ingrediente principale non ci sia. Ma è a dadini, quindi spadellate, diciamo. Sì, appena spadellate. Guarda che bella padella antiaderente che c'è a sinistra. Io prendevo quella ancora più grossa. Guarda che bel forza. Più grande la vuoi? Eccola qua. Eccola qua. Mettiamola lì. Nessuno ha pensato alla zucchina ripiena, tipo. Io pensavo che l'ingrediente col coso delle mele ci metti dentro un litro. Ancora più facile. Di pesce però. Dai. Prendete delle zucchine, belle grandi. Le spuntate, le lavate. Ovviamente le tagliate per lungo, così è più facile svuotarle. Prima però si lessano. Tre minuti in acqua molto salata. Si toglie la parte bianca centrale, che è quella che cuoce più velocemente. E si utilizzerà questa parte, quindi non buttatela. Saltata con un fondo di scalogno tritato e del pesce a scelta. Che sia sabola, che sia torno, che sia un pesce bianco. Tagliate a pezzettine e saltate insieme alla polpa bianca delle zucchine. Date un profumo, che so, del basilico. E poi legate con una spolverata di pangrattato. Questo ripieno andrà sopra le zucchine, quindi scavate, faranno da contenitore. E le cuocete con un pochino di acqua di cottura delle zucchine stesse, anche sotto il grill del forno per 7-8 minuti con la carta stagnola sopra. Oppure in padella con una salsina di pomodoro. Sono facili, veloci e economici. Spargo. Pesce spargo. Non ti piace? Sì, molto buono. Mi chiedeva lei qual era il pesce e ho detto un pesce spargo. Un pesce bianco, anche un persico. Un pesce con la P. Un pesce con la P. Un pesce con la P. Bene. Allora, hai fritto in extravergine d'oliva, non badiamo a spese a pochi fiammi, non le hai infarinate, sono così, nature. Già. Sai che quello sopra, secondo me, qua... Sì, erano, sì. Entrambi siete di quelli che a casa cucinate senza voler nessuno in cucina. Ma io ho la cucina piccola. Quindi è meglio. Non c'entriamo in due, la mia scusa è quella. Ah, ok. Qui quella quanto spazio c'è? Ti ho fastidio? Ma dai che una scusa non valida. Ci sono dei cuochi che cucinano, sono in cinque in una cucina grande così. Ma sono cuochi. E vengono fuori delle cose stupende. Secondo me se gli suona il campanello, signor Raul Bova, secondo me è un posticino fra il trigonì, fra il forno. No, non mi inguagliare, scusa, anche te, io sono fidanzata, no? Da una vita. Sono un'amica single, però, gli interessi, non ti preoccupare. Già, sono veramente un po' di amica. Allora, come si chiama colui che sarà gelosissimo della tua passione per Bova? Antonio. Guarda che sorrisino mio. Antonio, cosa gli cucina l'Antonio? L'ho zitto e magna. Sì, ho capito che Antonio deve star buono. No, sì, io piccola che ha itto. Ma guarda che c'ho fame, mi fai uno sapuntino. Ma convivete? No. Una volta a settimana, perché lui è della provincia di Caserta, quindi facciamo una volta una casa di uno e una volta l'altro. Quanti anni che siete insieme? Otto. Quanti anni hai? 25. Questa è un piccio, 17. Ti ha facili dal conto. Stai traumatizzando. Come sei messo sentimentalmente? Bene, allora, stavo dicendo, schiacciamo. Diciamo così, ti capita mai di cucinare per qualcuna continuativamente? Ma io ho giusto il fine settimana, perché durante la settimana fa la palestra, lanciarsi da paracaduti elastici. No, poi cucina lei un'altra settimana, insomma. Anche lei piace. Ma anche voi fate una settimana a casa di una settimana a casa dell'altro o c'è una? No, no, conviviamo, noi conviviamo. Allora, sei messo bene. Sì, noi conviviamo. Ti vuol dire il nome? Sì, Sonia. Saluta, Sonia. Sonia, allora pensavo ci fosse un intreccio strano. Ma Sonia, se la cava ai fornelli, pure gli piace stare là? Sì. Ma Sonia, quando ha fame, te la metto in fretta? No. Perché te la metto io adesso? Eh. Due minuti e mezzo mancano. Due minuti e mezzo, eh. Ma bisognerebbe spiegare, secondo me, un po' a tutti, il pesce sciabola. È un pesce molto lungo, è come se tu prendessi una guia gigantesca e la schiacciassi. Ah, ma non è un tipo di pesce, è il nome di un pesce, è pesce spadola. Esatto, o sciabola. O sciabola, ho capito. Detto questo, però, ritornerei sul tema, la zucchina. La zucchina. Zucchina, allora, riso venere, fatto, niente, lessato semplicemente con una crema di zucchina menta, quindi freschissimo, estimo, e lì volendo... Che ha poco amido, questo riso, quindi lo puoi cuocere prima e ce l'hai già pronto, perché ha una cottura piuttosto lunga. Io, zucchina tagliata velocemente, istericamente, buttata in padella con la cipolla, l'olio, csssssss, un chilo di pane, la butti sopra e te la mangi. Tre ingredienti. Ma aspettavo anche io la mezza manica che ci cadeva, ma non è andata. No, zucchine ripiene. Di carne? Zucchine ripiene, no? Dal macellaio, stupendo. Non necessariamente di carne, ma anche di pane grattato, con l'interno della zucchina, un pochino di aglio, un po' di prezzemolo, che facciano parte, per esempio, degli antipasti classici e stili alla piemontese o anche l'iguria. A me piace un fredde. Fredde e fredde devono essere fredde. Ragazzi, la zucchina... Quindi consiglio a casa, fatele prima e mangiatele il giorno dopo. Però ricordatevi che quattro zucchine lesse, fredde, dentro un frigorifero, se non vi ammazzate quella sera, siete proprio molto forti. Va detto. L'hai mai vista? Non l'ho capita. Quattro zucchine fredde... Quattro zucchine fredde... Eh, vabbè, allora niente. Lo spero la seconda volta. Vengo qua, dimmelo, dimmelo. Quattro zucchine fredde, trovate nel frigorifero, già allessate. Se le guardi e non ti ammazzi, sei un genio. Ah, ok. Dici che fallo un po' tristezza? No, per niente. Sono allegre, no? E dai, eh. Vieni a casa di Massimo. 3, 2, 1, stop. Il pesce spagola. Dico questo e porto via i piatti. Sì. Se tu però vai da uno come Massimo, che se le coltiva, e hanno ancora un sapore, un profumo come una volta, anche bollite con un filo d'olio sono buone. Sì, sono stupendo. Su, dai, dai, su, via. È venuto bene, totanetto ripieno, erano altri piccoli, quindi soffici, un po' più di lavoro per Massimo. Ecco, l'ampo di cialtronaggine, dell'ultimo secondo, dai. È così, è brusca, brusca, e vuol dire che non ci deve andare sopra. Grazie, bravo, così va bene. Ci ho metto un goccio di questo? Sì. O un filo d'olio? Ecco il cacao, lo sapevo. Non è cacao. Basta, basta. Tanto non te la faccio mettere, ma la liquirizia dove è andata? Su pomodoro. Ah, non ci siamo accorti. Sul pomodoro. Sì. Pensa che ti risponde così, in maniera candida. Però io ne posso dare uno di più di pomodoro. Non serviva a voglia di... Allora. Attenzione. Ma la zucchina è fatta come? È fatta affettata istericamente, come dice Riccardo Rossi. Bravo. Ma sta anche dentro il coso? Ha fatto un fondo di cottura con pesce sciabola saltato con olio e zucchine. Sì. Quindi la zucchina dentro è tagliata finemente. Basilico che dà il profumo. Pesto, pesto, pesto. Allora, il gusto c'è, cioè si sente molto, forse un pochino troppo forte. Io avrei messo più zucchine per stemperare il gusto del pesce all'interno e la cottura fuori del totanetto che non è abbastanza cotta ancora. No? No. Diciamo che su un dieci minuti è un po' coraggioso come preparazione. Lei, ingegnere, si serve da solo? No, gradirei il suo aiuto, dottor Ruggiati, per favore. No, francamente questa discriminazione. Sai, lei è sempre tutto autosufficiente. Ma siccome mi hai detto che è cru. Difficile, eh? Nazza, che impazzo dà paura. Il pesce sciabola ha un bel sapore, bello netto. Adesso si usa molto, no? Ma una volta quasi lo ributtava. Guarda, velocemente devo dirti che l'impasto è buono, però il totano è veramente un po' cruto. Cruto? Un po' cruto e quindi non si sente bene il totanaus. Capito? Penso che io me li mangio crudi. Così? Ma infatti sai, sei strano. Non so vorresti dire. Mangio tutto crudo. Quando mangio il sashimi c'è anche dentro la seppia, il totano. Vero. Vedi? Che fiammetta. Così. Dunque. Posso dire che comunque, secondo me, già prima dell'assaggio, guardando gli altri, va bene fare il ripieno. Ma io avrei ecceduto molto con la zucchina, perché il tema dato era la zucchina. Queste cose che fiammetta dice sono molto giuste e servono a capire bene i compiti che vengono affidati a cuochi e fiamme. Allora, c'è un po' troppo contrasto, è rimasto un po' amarognolo. Perché il gusto dello sciavolo è quello. Il pomodorino resta un po' all'esterno. Come idea e presentazione, che razioso. Ok. Presento l'altro, visto che ci siamo, darei un consiglio a Massimo e anche a casa. Magari con le zucchine potevamo fare una sorta di vellutata sotto, che faccia dal letto al totanetto inumido. Così stempera un po', diciamo, questo forte di pesce azzurro che ha lo sciabola. Quindi qui abbiamo un pezzo di pizza. Questo è il piatto dell'Alessia, è un couscous profumato alla menta, che va rotto giustamente, anzi potete anche mischiarlo tutto. Con zucchine fritte in olio extravergine, pesce spada planciato per la precisione, pomodorino al forno con la finezza della liquirizia sopra e un goccio di balsamico per dare acidità. Che secondo me dovete assaggiarlo insieme. Sì. Allora, buonissimo perché c'è la menta che si sente da freschezza assolutamente, il couscous mi piace molto, è anche messo così quasi al naturale sotto. Io invece ti dico che l'aceto balsamico insieme mi toglie la freschezza della menta. Via il piatto. So che ti ami il couscous. Sì, perché in realtà il couscous a me piacerebbe pure poi, sai. La liquirizia arriva dopo. E con un bel sorriso ti ha fatto capire che è soddisfatto. Il pomodorino lo lascio a fiammetta proprio perché è una carineria straziata. Ah, il balsamico l'hai messo anche sopra? Perché il couscous assorbe molto, fa un po' questo effetto spugna. Quindi questi sapori forti meglio sempre intorno che uno se li mischia. Meglio. Che ne pensi? Buono. Questo è un piatto, come dice ragazzi ho fatto una caterva di couscous, venite a casa e mangiamolo insieme. Ci butto un po' di zucchine, un po' di questo pesce. Spatola. Tu non lo, no, questo è spada. Spada. E' buono e la zucchina si sente, quindi secondo me l'obiettivo è raggiunto. Perché ricordiamo che il tema della prova era creatività con la zucchina. Sì. Io mi aspettavo, se devo essere onesto, un utilizzo della zucchina come forma. Ah, esatto. Orei piena, scavata. Perché comunque la prima cosa che ti viene in mente è l'utilizzo della zucchina come quello. Qua hanno un po' elaborato, tanto da riscarci. Però è molto piacevole perché la zucchina, la menta non si sente un granché, ma la zucchina spadellata, è leggermente croccante ed è un sapore piacevole. A me non dispiace. Da 1 a 5. Il piatto di massimo. Ti ascolto, ti ascolto. Non mi dispiace per una volta l'aceto tradizionale balsamico. Il piatto di massimo, che era il totanetto ripieno di sciabola e zucchine con pesto e zucchine appunto di decorazione. Questo invece è il piatto di Alessia che ha fatto un couscous profumato alla menta con zucchine fritte, spada al naturale appena scottato e polvere di liquirizia. Sì. È piaciuta la liquirizia? 12 a 5, vince Alessia. Si ribalta tutto. 19, non è che sorride ora. A 16. Sono pochi i punti. Con l'ultima prova può ribaltarsi ancora. E adesso una donna, secondo me, potrebbe essere avvantaggiata nella scelta di due dessert. Tiramisu o zuppa inglese? Per una prova di presentazione. Zuppa inglese. Dovete farla bella. E la zuppa inglese è l'ingrediente principale della prova di presentazione. Avete in questo caso tutti gli ingredienti di fronte per elaborarla, farla soprattutto bella. Non l'assaggeranno, quindi visiva. Stupiteli. 6 minuti di tempo. Via! Allora. Abla. Abla. Che fai? Inglesina al melone. Composta come? Guarda, crema pasticcera, la metà scura. Quindi metà cacao. Fai una cosa, guarda. Io rompo le scatole soltanto su una cosa. Perché spesso in cucina per far prima si usano altre attrezze e magari ci si fa anche male. Sì, la metà col cacao, strato di savoiardi con crema di melone, con liquore al melone. Questo è il liquore al melone, ok. E poi sopra con decorazione. Usa anche la papaya? No. Usa la papaya? Che ci fai? I raggi del mio sole. Che è sempre... È un sole particolare. Qual è dei due? No, no, che scherziamo. Era il pova. No, volevo dire Antonio, Antonio. Bene. Dopo 8 anni il finanziamento si conclude, ma di dolci parliamo. Qua a Bagnomaria abbiamo del cioccolato bianco. Che servirà per fare i raggi? No, per bagnare le puntine dei miei raggi. Perché mi piace. Un po' dolce, un po' croccante. Io non dico niente. Cioè, praticamente se io poi sento il ragazzo e vedo la puntata, mi dice di Raul Bova, io vengo, vado via. No, senti, già è geloso, non mi mettere nei guai. Ci credo che è geloso. Sai che siamo andati lo stesso giorno, Riccardo? Chi? Lei? Sì. Che vorrei... Vuoi dire che un po' di niente, Orosco? Vuol dire che, essendo gemelli, vedi questa faccettina tutta sorridente, brava, così. E poi, ecco, vediamo il portello. Allora, io sento un po' di tensione, saranno i soli tre punti che li dividono. Quindi io chiederei a Alessia di intonare una canzoncina, così. Dai, canti. E mangio troppa cioccolata, forza ero te nella mia vita passata. Mazza, brava. Brava. E non c'è la papaya. Puoi anche reppare mentre cucini. Vi lascio un attimo lavorare, mentre Massimo dà del colore, del sapore al cacao. Io, con il mio terzo occhio, vedo un'acqua troppo in ebollizione sotto il cioccolato bianco, Alessia. Vedo uno sbuffage. Ok, allora, parliamo di questo tipo di dolce. Zuppa inglese, francamente non ho capito perché si chiami inglese, perché è fatta con la crema pasticcera, ovviamente, in Italia. Che è una crema di uovo con la farina, invece la crema inglese non contiene la farina. È senza farina. Come è nata e perché si chiami crema inglese si contendono. Qualcuno dice che, naturalmente, è stata Caterina de' Medici, che da Firenze ha portato in giro al crema inglese. Altri dicono invece che è un gentiluomo di Ferrara, onde e dolce, il quale è andato in Inghilterra e ha assaggiato il trifle, che somiglia moltissimo alla zuppa inglese, non usano l'alcernes, ma altri in cuore. Allora, signori miei, manca un minuto e mezzo circa. Anzi, un minuto circa. Eh, io te l'ho detto che era un po' alta sta qui. Lei mangia troppo a cioccolata, ma a volte... Allora, qua abbiamo composto gli strati così. Sotto, Savoillardo imbevuto nel liquore al melone. Poi, crema pasticcera al cacao, in questo caso, ancora Savoillardi e la crema classica. Qua invece stiamo componendo questo sole. Quindi sotto, base di pan di spagna, coppato e bagnato con... Amarena. Amarena. Ok, quindi lo sciroppo dell'amarena. Crema pasticcera sopra, a nappare il pan di spagna. E con la papaya facciamo il raggio del sole, che poi verranno finiti, ma mi sa che devi sbirgare. Con il cioccolato bianco. Quindi lo spegniamo qua. Pochi secondi alla fine. Ultimi ritocchi. C'è un clima... Raccolto. Stop, 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 basta, stop, 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 stop. Oggi faccio così. Così. Entrambi molto aranciati. Noi andiamo in pubblicità, mentre noi li valutano e torniamo. State con noi, eh. Cuochi e fiamme. Qua. E siamo tornati in studio, anzi, in cucina. Si guardano con aria di sfida. Alessia conduce per 19 a 16 su Massimo. Massimo se la ride, perché questa prova è arrivata un po' di corsa sul finale. Lui è riuscito a finire, diciamo, la sua coppetta alternando l'inglesina al bicchiere. Com'è che l'hai chiamata? Non te lo ricordi più. L'hai chiamata l'inglesina al menore. Ok. Allora, secondo me l'obiettivo della zuppa inglese di presentazione è anche che deve essere golosa. Quindi deve invogliarti a mangiarla. Questa mi invoglia assolutamente a mangiarla per tutta questa crema, poi sotto il cioccolato. Però il melone mi alleggerisce quasi la coda. Per cui sembra di fare un peccato non troppo calorico, diciamo così. Ecco, bravo, bravo, bravo Riccardo. Così si fa. Dolce stratificato, in trasparenza si osserva. Scusa Chiara, si imbrocco queste cose. Non devi rosicare. Sai, io faccio così. Beh, bravo. No, io ho bisogno di tempo. Poi guardo un po' Fiammetta, guardo un po' Chiara, gli amici a casa. Allora, questa zuppa inglese la lascerei sul comodino, come si chiama a Roma, il carello dei dolci. La prenderei, molto volentieri. E queste due le toglierei subito così perché, insomma, non servono a niente. Due scaghiattie di cioccolato sopra. Sì, sì, sì. Tornata prima di mano. Prendilo, prendilo. Quindi mi piace, mi piace. Non si possono toccare i piatti dopo lo scadere del tempo. Fiammetta. Lo perdono perché è un maschio palestrato, si è espresso, ha cercato di esprimersi in un dolce, che potrebbe essere anche maionese questa cosa. È un dolce terribile e lo perdono per questo perché sono sicura che il meglio di sé lui lo dà in altre cose, nei primi piatti in particolare, nei secondi di carne, quando insegna... Quando si lancia l'anelastico. Questo l'ha fatto per amore. Ok. Attenta perché poi arriva Sonia, vero si chiama? Si è palestrata anche lei. Secondo piatto. Allora, il sole... Infantile. Infantile si chiama il dessert. Sì, sì, è fatto un pan. Ah, brava. Ti sei... Allora, la base era di pan di spagna sotto, bagnato alla marena. C'è, di pan di spagna sotto, sì. Sì. Ok. E poi i raggi che non si sono appuntiti di quel cioccolato bianco che è rimasto nel bagnomaria. Eh, infatti è solo quello che è incompleto perché i colori sono bellissimi. Non sembra un dolce perché da vederlo sembra quasi un purè. No? Scusa, sì, il purè è vero con le zucche. Il purè con la zucca. Sì. Cromaticamente è un bellissimo piatto, manca di qualcosa ovviamente perché andava completato. Una zucca inglese. Una zucca inglese. Una zucca inglese. E questo? Ora perché ci ho fatto un gol. Allora amici, se la regia mi fa un'inquadratura dall'alto, allora diciamo che probabilmente questo scherzo, questo gioco tra amici, tra ragazzi del sabato pomeriggio con nonna, non è riuscito. Perché c'era qualcuno che diceva, no, io, 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 io. Insomma, questo è quello che è successo. E comunque effettivamente sembra un purè con quattro avanzi di zucca, diciamo la verità. Forza. Con tutta la tutta, tanta simpatia. Qui, questo non lo perdono perché è donna. Quindi voglio dire, qui... Una donna. Ecco, una donna mi doveva fare una cosa più appetitosa, più spirituale, più, 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 più. Ecco, sembra un'astronave con dei raggi forse oppure questo è il sole verso cui l'astronave si dirige, però, diciamo, francamente, non mi viene voglia di mangiare. Va bene, voti, basta, lo distruggete. Dai, insomma. Zuppa inglese al melone di Massimo. Che metta, ma... Rilassati. Il sole nascente di Alessia. Oh! Portate una camomilla per a metà. Uno zuccherino. Volti altissimi. Nove a quattro per Massimo. Rivalta un'altra volta. Il risultato. Venticinque a ventitré. Due puntini. Dai, canta così, ma veloce, veloce, così. Per due punti, verso e bova. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Lui porta a casa il kit di cuochi e fiamme. Voi venite con me. Lei canta la cartettina. Noi mangiamo i vostri dolci. E voi state con noi. Anche domani. Pochi e fiamme. Scusa. Avanti, ok. Arrivederci. Capitoli. Capitoli. Grazie a tutti